L'ANAS provvederà al taglio degli alberi ad alto fusto che si trovano sulla statale 80 dalla zona dell'ospedale San Salvatore sino da Rischia. Contro questa decisione si è schierato il consigliere comunale Lelio De Santis che da tempo porta avanti questa battaglia per il verde. L'ANAS ha comunicato al comune il taglio degli alberi lo scorso 22 aprile, motivandolo per questioni legate alla sicurezza degli automobilisti ed eventuale posizionamento del guardrail. Ma per De Santis dietro ci sono altre logiche. L'abbattimento degli alberi è diventato ormai uno sport. L'ANAS preferisce tagliare più che assicurare la sicurezza dei viaggiatori, degli automobilisti mettendo guardrail, dissuasori di velocità e via discorrendo. E' più comodo quindi più economico tagliare gli alberi ma questa è una vergogna intollerabile e soprattutto è grave il silenzio della regione perché l'ANAS in data 22 aprile ha comunicato che avrebbe provveduto a tagliare quei centinaia di alberi sulla statale 80 e la regione se ne è stata in silenzio, ha avvisato anche chi di dovere dentro l'ufficio anche il vertice regionale perché non è possibile. Così come non è tollerabile il silenzio e la complicità anche del comune perché quello è un patrimonio arborio essenziale, decisivo che i nostri antenati hanno piantato con tanta fatica quelle piante, oggi quelle piante non sono un rischio per gli automobilisti. Basta che si rispetto i limiti di velocità, basta che l'ANAS faccia il proprio dovere. De Santis già si era scagliato contro l'ANAS in occasione del taglio degli alberi sulla statale 17 nella zona di San Gregorio appoggiato anche da alcuni residenti. I guarderelli ad esempio lì non sono mai stati posizionati. Di qui l'appello alla regione e al comune e l'annuncio, se non si risolverà la questione, di manifestazioni eclatanti. Io ho chiesto alla regione ma anche al comune di attivarsi e di bloccare questo scembio, l'ennesimo scembio sarebbe in città e non escluso che con un comitato di cittadini e di residenti faremo nei prossimi giorni una grande manifestazione pubblica perché ora che anche il cittadino, che anche gli aquilani capiscano la gravità della situazione. Grazie a tutti.